video percorso musicale da Gualdo Tadino verso Roma, 11 e 35, 26 gradi abbiamo fatto benzina al self service di Gualdo Tadino e adesso possiamo stare tranquilli Farsi Fumiamo il nostro bel sigaro Garibaldi Fumiamo il nostro provadito Siamo spostando la strada stadale Tre della Flaminia Il tempo si sta imbronciando Tre della Flaminia Facciamo una piccola fermata tecnica Per una migliore visualizzazione del percorso Grazie 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 a tutti. 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 Verde. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo... e a tutti. e le foto... è una serata, e a tutti. queste... le notizie... e... 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 faremo... e... in questo... e... e... siamo sempre... saranno... e... 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 però... e... e... piccolo... e... 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 e...